Il tam-tam dello scorso fine settimana, attraverso WhatsApp, ha impiegato poco a far circolare delle immagini strazianti. Le foto, va subito precisato, si riferiscono ad un episodio di circa dieci giorni fa, ma poco cambia. Alcune di queste, davvero troppo crude per essere mostrate in pubblico, riassumono ancora una volta quanto il fenomeno della predazione, comunque normale in questo ambiente alpino, fatto di biodiversità, stia purtroppo divenendo ricorrente. Neanche due settimane fa era toccato ad un greggio di ovini al confine tra lo Spluga e la vicina Svizzera a essere attaccato. Immagini pressoché identiche a queste erano già circolate, si era parlato di lupi, ben cinque ne erano stati avvistati in zona. Questa volta, stando a quanto dai social si può prendere, non di lupo ma di orso, si torna a parlare. Ma in Val di Rezzalo, dove al momento, attorno a quota 2000 metri, 1860 per la precisione, si sta ancora cercando di conteggiare quante siano state le pecore recentemente predate. C'è chi parla di almeno sei esemplari, uno dei quali una femmina gravida. I capi di bestiame appartenenti a due piccoli allevatori di sondalo sarebbero stati dapprima attaccati da un plantigrado, va detto che qui, in Val di Rezzalo, un esemplare di orso era stato avvistato otto anni fa, ma mai, a memoria d'uomo, da queste parti aveva attaccato il bestiame al pascolo. I lupi, poi, qui non ci hanno mai messo piede, raccontano i frequentatori della zona. Da quanto appreso, dopo un'attenta analisi delle carcasse e degli oveni attaccati, sembrerebbe che dopo l'attacco dell'orso sarebbero poi stati alcuni esemplari di lince a fare ulteriore razzia di quanto lasciato sul campo. Quel che è certo è che la paura tra gli allevatori continua a serpeggiare. E così, mentre si sta provenendo dal trasferimento del gregge verso luoghi più sicuri, ancora sui social è stata diffusa la notizia di un avvistamento. Un esemplare di orso sarebbe stato avvistato in Valpola, nell'area di Zandilla. Un esemplare Un esemplare